Questa partita era anche fondamentale vincere perché non so ora bene in classifica com'è la situazione, però questi punti sono fondamentali. Poi al di là di tutto abbiamo dato una prova di quanto valiamo perché nelle ultime partite eravamo un po' calate, un po' come prestazione, invece in questa partita siamo un po' riscattate. Siamo calate negli ultimi due set tra ricezione e battuta, però abbiamo tenuto la concentrazione ed è andata bene per fortuna. Purtroppo non abbiamo potuto dimostrare il meglio di noi anche per i problemi fisici, però ora siamo in parte tutte abbastanza riprese e senza quei problemi possiamo dimostrare quanto valiamo ancora di più. Non c'è questo ostacolo dei problemi fisici e possiamo farci valere ancora di più. Guardiamoci indietro, guardiamo anche avanti adesso perché le squadre siamo tutte lì, siamo racchiuse in pochissimi punti, quindi giochiamocela con tutti senza paura o timore di valenziali verso nessuno. Lavoreremo in palestra per trovare nuove energie, nuova voglia, nuova vena e saremo pronti qua fra 15 giorni per affrontare una delle squadre che secondo me arriverà poi nei primi tre posti che è il Pedara di Nabaldi, che ha delle grandissime individualità. Quindi anche quella è una partita che ci teniamo a vincere. All'andata abbiamo perso 3-2, è stata una gran bella lotta, quindi in casa sicuramente faremo almeno meglio sotto il punto di vista dell'impegno.